A due o di più? Quattro, sei, otto, dieci, unici, dai! Un numero regale c'è! Sono già da un punto al vero! Scusa di scuola adesso! Grazie a tutti! Scusa di scuola che ci sono un po' di modifiche, guardate un po', che sembra quasi una macchina del futuro, c'è una persona dentro, Andrea, questa è stata costruita veramente da questo ragazzo, e questa invece è una tripe, tre ruote. Trai, tre ruote. Bravo! Questo è il punto di lavoro, è il punto di scuola, è il punto di scuola, però la piacevolità riguarda questa. Guardate, questa è un'ex pedaggara che appartiene a signora D'Alberto, su cui sono stati mostrati da me insulare. C'è da dire che con questa macchina, il signora D'Alberto si sta preparando ad approfondire un'impresa incredibile. Lui partirà il prossimo maggio da Milano per attraversare con 8 mila chilometri... Perfetto, grazie. Il bocca al lupo dell'impresa, il giallo D'Alberto si sta preparando ad approfondire un'impresa. Ma non era finito di fare un'impresa. Sì, sì, però... Grazie. Grazie.